L'infortunio di Insigne e la convenzione ponte tra il Comune di Napoli e la società con in mente ancora il ricordo della vittoria schiacciante contro il Milan allo Stadio San Siro. Nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali sono questi i temi che tengono banco in città in attesa della partita contro la capolista fiorentina. Gli azzurri, quelli non partiti in giro per il mondo con le rispettive nazionali, hanno ripreso ad allenarsi sotto lo sguardo di Mr. Sarri, il grande artefice di questa prima parte del campionato, caratterizzato dalle critiche all'inizio e ora segnato da elogi da tutto il mondo calcio. Ad Iguain e compagni che da ieri sgobbano sul prato del centro tecnico di Castelvolturno si è unito poi questa mattina anche Insigne, rientrato in anticipo a causa di un fastidio che però non dovrebbe impedirgli di scendere in campo contro i Viola. Nel frattempo il marketing della società sportiva Calcio Napoli ha presentato una sorpresa ai tifosi, la Fidelity Guard, i particolari, li ha spiegati i responsabili del settore marketing Alessandro Formisano. Oggi presentiamo una nuova versione della tessera del tifoso. La tessera del tifoso che è nata cinque anni fa ha esaurito il suo ciclo vitale. In questi anni, grazie anche agli operatori che ci hanno assistito, Ticket One, prima di tutti, che era l'ottomatica, insomma quindi diciamo prima di tutti ci hanno assistito, ci hanno aiutato a comprendere quali erano le eventuali debolezze, le possibili migliorie di questo strumento che è voluto dal Ministero degli Interni.